Michael Jackson è stato un cantante, compositore, ballerino e intrattenitore americano. Michael Jackson era un americano cantante, compositore, ballerino e intrattenitore. Michael Jackson war ein amerikanischer Sänger, Komponist, Tenzer und Entertainer. Con i suoi primi successi venne designato come il re del pop. Dal momento in cui i suoi successi diventa lui come re del pop disegnato, Aufgrund seiner Erfolge wird er als King of Pop bezeichnet. Secondo il libro dei Guinness, Jackson, arrivando a vendere a livello mondiale dai 300 ai 400 milioni di dischi, divenne l'intrattenitore di maggior successo di tutti i tempi. Jackson applica con livello mondiale su 300 a 400 milioni venduti dischi, secondo Guinness libro dei primati, come di maggior successo intrattenitore tutti i tempi. Jackson gilt mit weltweit etwa 300 bis 400 milioni verkauften tontergen laut Guinness Buch der Rekode, als er folgreichste entatenet alle Zeiten. Altre fonti ci dicono che Jackson ha venduto addirittura 750 milioni di dischi. Altre fonti danno addirittura a 750 milioni depositati dischi a Andere quellen geben sogar bis zu 750 milioni depositati plattenarm. Jackson iniziò la carriera già da piccolo, nella popolare band degli anni 70, The Jackson 5. Jackson divenne già come bambino parte nella 1970 anni popolare band The Jackson 5. Jackson wurde bereits als Kindertal der in den 1970 Jahren popolieren band The Jackson 5. Come solista pubblicò nell'autunno del 1982 Thriller, l'album più venduto fino ad oggi in tutto il mondo. Come solista pubblicò lui in autunno 1982 con Thriller, questo a oggi, a livello mondiale più venduto album. Als solo-künstler verrufondlichte er im Herbst 1982 und hackt sich mit Thriller das bis heute weltweit meistverkaufte album. La rivista musicale Rolling Stone lo mise al venticinquesimo posto, nella classifica dei migliori cantanti di tutti i tempi. La musicale rivista Rolling Stone posizionò lui al posto 25 la lista I migliori cantanti tutti i tempi. La musicale rivista Rolling Stone posizionò lui al posto 25 della lista I migliori cantanti di tutti i tempi. Michael Jackson era un americano cantante, compositore, ballerino e intrattenitore. Michael Jackson war ein amerikanischer Sänger, componist, tenzer und entertainer. Dal momento in cui suoi successi diventa lui come re del pop disegnato. Aufgrund seiner Erfolge wird er als King of Pop bezeichnet. Jackson applica, con livello mondiale, su 300 a 400 milioni venduti dischi, secondo Guinness Libro dei Primati, come di maggior successo intrattenitore tutti i tempi. Jackson gilt mit weltweit etwa 300 bis 400 milioni verkauften Tonträgern laut Guinness Buch der Recode als Erfolge Reichsta in Athena aller Zeiten. Altre fonti danno addirittura a 750 milioni depositati dischi a. Andere Quellen geben sogar bis zu 750 milioni abgesetze Platten an. Jackson divenne già come bambino parte nella 1970 anni popolare band The Jackson 5. Jackson wurde bereits als Kindertal der in den 1970er Jahren popolieren Band The Jackson 5. Come solista pubblicò lui in autunno 1982 con Thriller, questo a oggi, a livello mondiale, più venduto album. Als Solo-Künstler veröffentlichte er im Herbst 1982 und hackt sich mit Thriller das bis heute weltweit meistverkaufte Album. La musicale rivista Rolling Stone positionnò lui al posto 25 la lista i migliori cantanti tutti i tempi. Dei musikzeitschrift Rolling Stone setze ihn auf Platz 25 der Liste der besten Sänger aller Zeiten. Grazie a tutti. Grazie a tutti.